Ciao a tutti, in amore i tira e molla fanno male. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale, appunto Massimo Terramasco, felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ma, prima di passare al tema, ti voglio ricordare due appuntamenti importanti, quindi abbiamo Torino, venerdì 17 gennaio 2020, ore 20.45, e farò il seminario su come superare la paura dell'abbandono affettivo, la paura dei rifiuti e sedurre chi vuoi. E poi il corso di Milano, domenica, primo marzo, dalle 9.30 alle 19, autostima e seduzione, in amore e sul lavoro. Il riferimento è 333 15 11 703. Per chi non potesse, diciamo così, seguire i corsi del vivo, può andare sul canale Massimo Terramasco, nella home page, abbonarsi e iniziare il suo percorso di crescita personale con me. Bene, e veniamo dunque al tema, veniamo dunque al tema del tira e molla. Tira e molla è una cosa che, diciamo, fa male. Lasciare qualcuno può essere una situazione complessa, può creare problemi, però, diciamo, in realtà dobbiamo imparare a farlo, perché il continuo tira e molla distrugge, è la cosa peggiore che si può fare in una relazione sentimentale-affettiva, distrugge completamente e bisogna imparare a superare i sensi di colpa. Lasciare qualcuno è difficile, ma quando si è arrivati al capolinea bisogna scendere, perché è inutile stare lì, come dire, seduti sull'autobus del capolinea, non si muove più. Quindi lo so che questo può essere una cosa che genera sofferenza, soprattutto se c'è stata una relazione profonda, se ci sono state situazioni negative, oppure se sentiamo da un lato che comunque non è la persona giusta per noi, anche se proviamo degli attaccamenti. Quindi le due situazioni in cui è difficile lasciare sono, uno, quello in cui viviamo i sensi di colpa, per cui crediamo che l'altra persona possa soffrire, crediamo che l'altra persona possa stare male e viviamo situazioni di questo genere. Quindi quando c'è una situazione del genere è difficile, diciamo così, lasciare. Ma è anche difficile quando l'altra persona ci tratta, tra virgolette, male, ma noi siamo coinvolti, non riusciamo a, diciamo, a sganciarci da questa situazione. Quindi dobbiamo imparare a gestire le situazioni. È evidente che, diciamo, quando dobbiamo lasciare qualche persona che non amiamo più, perché magari siamo condizionati da qualcun altro, cioè, o siamo innamorati di qualcun altro, alle volte spesso per sicurezza cerchiamo di fare un tiro e molla, non cerchiamo di prendere le distanze, ma lasciando uno spiraglio aperto. Però questo fa sì che una cosa non finisca e un'altra non parta nel modo giusto. E allo stesso modo, quando invece accettiamo, diciamo così, che l'altra persona siamo in questo modo trattati male, diciamo così, e lasciamo che l'altra persona magari faccia tire molla con noi e noi siamo pronti a ritornare ogni volta, beh, allora diciamo che in questo caso viviamo rancore, rabbia verso l'altra persona che però teniamo compressa. Quindi, in queste due situazioni, le cose che si verificano sono o il senso di colpa, cioè un, come dire, la paura di far soffrire una persona cara, o la rabbia, cioè il, che poi è sempre rabbia espressa da se stessi verso se stessi, perché poi si accetti delle cose, come dire, alla fine quella rabbia ti resta sempre dentro. Quindi, nel primo caso devi tenere presente una cosa che fin tanto che tu non chiudi, non riuscirai a uscire fuori dalla situazione. Quindi, se tu vuoi veramente bene a una persona, vuoi veramente bene a quella persona, devi lasciargli la possibilità di essere ancora amata, ancora amata da qualcun altro. E, nell'altro caso in cui tu sei, diciamo così, nella situazione in cui subisci, tra virgolette, il tira e molla dell'altra persona, beh, a quel punto lì devi lasciare a te stesso, diciamo così, una possibilità di essere amato. E devi, è inutile che stai a sperare che quella persona lì, in qualche modo, per qualche motivo, per qualche alchimia particolare, astrale, possa amarti, possa essere innamorata di te. Perché non succederà? Perché è veramente difficile che possa succedere? E comunque non sarebbe, come dire, giusto per te fare da ruota di scorta. Cioè, nel senso che, certo che magari quella persona torna e qualora altre cose le vadano in malora, diciamo così, vadano male. Però tu saresti sempre di fatto un elemento, una ruota di scorta, una situazione che non, in cui, come dire, vai a subire delle cose che non dovresti neanche minimamente subire. Ecco quindi che ci sono queste due situazioni che spesso si manifestano nella nostra vita, a cui noi talvolta abbiamo difficoltà a vivere, situazioni di questo genere. Abbiamo difficoltà a viverle perché in qualche modo ci feriscono, in qualche modo, diciamo così, ci fanno soffrire, ma noi non dobbiamo per niente stare in stati di sofferenza. Perché se rimaniamo in stati di sofferenza, come dire, poi andremo a nutrirci di sofferenza. Questo è quello che accade, è quello che accade ogni volta che noi accettiamo dei compromessi. Ogni volta che noi accettiamo dei compromessi non c'è possibilità. Entriamo in uno stato, diciamo così, di malessere. Di malessere nel senso che accettiamo qualcosa che non dovrebbe essere accettato. Questo è la cosa fondamentale. Però, come dire, noi non possiamo fare diversamente. Non possiamo fare diversamente se non facciamo degli atti di coraggio, se non mettiamo in atto delle strategie che ci consentono di uscire fuori da questa situazione. E quindi dobbiamo superare da un lato il senso di colpa, dall'altro la rabbia. Il senso di colpa è poi alla base di tutte queste cose qua, ci sta proprio la paura dell'abbandono affettivo e la paura del rifiuto. Sono proprio le emozioni base che dobbiamo riuscire a superare. Perché queste emozioni base sono emozioni compresse, negative. E ci sono diverse modalità per superare. Intanto bisogna comprendere bene cosa sono. Questo, come far superare in modo tale da evitare di cadere nel tir e molla, o di proporre il tir e molla, lo potrai capire venendo, partecipando al mio seminario di Torino, venerdì 17 gennaio 2020, ora 20.45, dove parlerò oltre che superare la paura dell'abbandono affettivo, la paura del rifiuto, anche come sedurre, come conquistare chi desideri veramente. E diciamo che tutto questo a Torino, venerdì 17 gennaio 2020. Mentre invece a Milano farò un seminario full immersion domenica, primo marzo, dalle 9.30 alle 19.00, e l'autostima e la seduzione nell'amore e nel lavoro. E il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordavo inoltre, prima di andare avanti sul tema, che puoi abbonarti al canale Massimo Terramasco, semplicemente accedendo, diciamo così, al home page del canale Massimo Terramasco, e troverai il tastino, vicino al tastino Iscriviti, troverai il tastino Abbonati, ti puoi abbonare tranquillamente. È evidente che, diciamo, quando è che bisogna lasciare l'altra persona? Beh, ad esempio, se tu vuoi una relazione sentimentale, affettiva, diciamo, di stabilità, e poi ti innamora, ad esempio, di un farfallone, ti innamora di una persona che magari, sì, ti dà passione, però ha 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle, ha sempre fatto il Don Giovanni, è poco realistico, diciamo così, è un pensiero idealista, un pensiero trascendente, ma poco pratico, non vuole avere una vita, diciamo, di coppia tradizionale. Quindi, ad esempio, anche in questo caso, se tu non accetti e non accetti di vivere questa cosa, e la vivi con sofferenza, devi chiudere la relazione, devi... è inutile fare il tir e molla, perché lui nel tir e molla ci guadagnerà soltanto. Quando fa il molla, si fa tutte le sue storie, quando fa il tira pure, soltanto che in un caso, diciamo così, ti potrà anche colpevolizzare, no? Quando c'è un allontanamento che magari chiedi tu, lui vuole con un'altra donna, poi tu torni soffrendo, perché pure te lo dice, perché prima, nel caso in cui stavate assieme, te lo teneva nascosto, adesso te lo dice, e tu soffri ancora di più, perché, come dire, è più facile che ti faccia anche il senso di colpa, no? Ti fai venire il senso di colpa, perché dice, è causa mia che mi sono allontanata, e questa è un'altra, un'altra... Quindi, se tu vuoi vivere una relazione sentimentale trasgressiva, devi sapere che è una relazione sentimentale trasgressiva. E viverti questa liaison, diciamo, di nascosto, senza, senza, diciamo, divulgarla agli altri, e vivertela in modo riservato e prendere quello che è, ma sapendo quello che è. Non devi, come dire, ci sono persone che, come dire, se ti compri una moto da cross e speri che ti potresti andare bene in strada, ci andrai male in strada, anche viceversa. Quindi, in queste situazioni, non devi diventare vittima di questa situazione, no? Perché diventare vittima non serve assolutamente a niente. Devi iniziare a capire che se una cosa non funziona, beh, la responsabilità è la tua, fondamentalmente, no? Cioè, nel senso che nessuno ti costringe a stare in situazioni dove tu non vuoi stare. Però, devi trovare il modo di venire fuori da queste situazioni. E l'unico modo per venirne fuori, l'unico vero modo reale per venire fuori da queste situazioni è quello di essere, come dire, centrata su te stessa, centrato su te stesso e evitare i tiri molle quando una cosa non funziona, tira fuori il sette di bastoni e di fuori dai maroni. Fuori dai maroni. Perché se tu non tiri fuori il sette di bastoni e resti bloccata, resti bloccato in situazioni che ti generano comunque sempre sofferenza, situazioni che ti generano sempre malessere, situazioni che ti generano sempre disagio, sia che le imponi, sia che le subisci, alla fine vedi che il tiri molla ti porta sempre a soffrire. E quindi le due situazioni possono essere completamente diverse. Una è quando, diciamo così, la parte emotiva comprime la parte logica e ti costringe a fare delle cose che tu non vorresti fare. Allora devi ricercarti, diciamo così, una figura istituzionale, perché la figura istituzionale in quel momento lì ti può salvare. L'altro caso è quello in cui la parte logica comprime eccessivamente la parte emotiva, e allora tu devi concederti delle trasgressioni, diciamo, devi andarti a ricercare delle figure trasgressive e tirare fuori anche la tua parte trasgressiva. Se ti senti deficitaria, diciamo così, nella conquista, di solito cosa fanno le persone? Indossano la maschera, la maschera opposta, indossano la maschera del super donno, del super uomo, quello tutto ligio, tutto coso, ma che non ha, diciamo, la possibilità di vivere bene le situazioni. Quindi sarà agganciato, diciamo così, sarà agganciato ad esempio a persone trasgressive che lo rivolteranno come un calzino, poi, se tu comprimi troppo le emozioni. Perché se comprimi troppo le emozioni, ti senti inibito nella conquista. Se invece ti senti, diciamo così, inibito nella tua libertà di espressione, temi ad esempio il rifiuto, temi l'accettazione, beh, se ti senti inibito in quello, andrai a ricercarti, indosserai la maschera da, come dire, da super donno, super femmina o da super maschio, ma però poi ti aggancerai a persone istituzionali che in qualche modo ti tartassano mettendoti dei vincoli, opprimendoti la libertà, opprimendoti di esprimerti. Quindi in un caso e nell'altro sei portati poi a cercare di fare il tire molla, ma il tire molla è quanto di peggio può capitare nella nostra vita perché non funziona, fa stare male, genera situazioni di sofferenza, non ci dà nessun beneficio. Bisogna acquisire, quindi andare a sbloccare, diciamo, alla radice le due paure di fondo che fanno sì che si inneschino questi meccanismi, che sono la paura di essere rifiutato e la paura di essere abbandonato. Ci sono diversi metodi che possiamo fare nel presente, che possiamo fare a livello meditativo, che possiamo fare a livello simbolico e chi volesse partecipare può capire come sbloccare queste cose e vivere meglio le relazioni sentimentali effettive. Partecipare al mio seminario a Torino venerdì 17 gennaio 2020, ora 20.45 e il riferimento è 333 15 11 703. Questi temi saranno anche trattati a Milano, domenica 1 marzo 2020, full immersion dalle 9.30 alle 19 e il tema sarà autostima e seduzione in amore e nel lavoro. Riferimento sempre a 333 15 11 703. Bene, detto questo, ti ricordo anche che potrai abbonarti al canale Massimo Terramasco non potendo seguire i corsi dal vivo, basta andare sulla home page del canale Massimo Terramasco abbonarti e lì potrai iniziare con me il tuo percorso di crescita personale. Bene, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!